Allora, video incredibile, bellissimo, prima Ma Non ho visto i video, le cose Cale di cucina No, no, quello non ho visto Che cazzo a noi Scena che non fai Due Bellezza e estetica nell'impero romano d'occidente Come ti ho insegnato io Taglia una crocca Prima che sbrocca Se è tato, lo dite Verso il tasto So lo sfondo Meglio Non funziona più, stai migliorando Guarda, vedi, quello di prima Avevi lasciato il wifi funzionante Ma questo non è proprio Allora, bene, sì Vedi, quello di prima Hai lasciato il wifi che funzionava Questo l'hai proprio spaccato Non riesco proprio a non ridere Capisci che c'è questo problema Eh, ma che dico Stai ridendo Ti chiacchi sotto E ti lamenti perché Vedi, quello di prima Hai lasciato il wifi che funzionava Ma perché non fa ridere la decima volta Fa ridere Aspetta, penso alla morte Un'altra Penso Dico un'altra parola Proviamo, dai E senti Ok Vedi, quello di prima Questo va bene Perché quello di prima Avevi lasciato il wifi Ti giuro sto pensando Le cose brutte del mondo Le cose, le foreste che si distruggono I panda I panda perché sono brutti I panda? Si stinguono Cos'è? Poi nessuno con un percazzo Lo infusi Eh? Si stavo a posto Pure se favo una cagata Mi sono poco per nessuno Costa una cifra Non lo sa nessuno Perfetto Ah, no Vesta Il suo modello che ha scelto Che cosa? Il modello che ha scelto lei? Il modello che ha scelto lei costa 1.370 Poi c'è quello Fammi fare questo blocco Blocco Gire di schiera No Eh? Cosa stai succedendo? Ah, io lo faccio con te Eh sì Il modello che ha scelto lei Sono 1.350 euro Poi c'è quello da 1.700 E quello da Aspetta un attimo E non si riesce a farlo Controllate sta girando Vabbè, dai Dai Dio, su Il modello che ha scelto lei Sono 1.350 euro Poi c'è quello da 1.799 E quello da 1.850 Ma io volevo quello da Da 2.100 Ma io volevo quello da Da 2.150 Come questo che ha scelto lei Ma ne erano 5.200 Film sulla vita di padre e figlio Jack Buono Immaginano grande Andrea Eh Perché io devo fare la faccia di idiota Andrea Pronto 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 Eh Deve esserci una cosa Eh 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 Film T E T Ah 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 L'impronta digitale su questo nuovo L'impronta del dito No Basta lo sto, le dita sono andate Poi magari io ti taglio il dito E poi ti fai male Ah Che hai fatto? Che fai? Non puoi avere il terreno No Dov'è che non ti fai mai male? Dov'è che è sempre protetto? Dov'è che è sempre protetto? Eh Dove non batte il sole All'ombra No Ah Tocca usare L'impronta del cazzo Del cazzo? Proprio del cazzo? Ma di quale cazzo? Cioè ognuno il suo Che fai? Lo imposti La prima volta Che ho detto? Tu arrivi all'Apple Store Eh E Cioè sto banchetto Lo facci Sul telefono No? Eh E poi? E lui rileva E poi ogni volta devi andare in posto No? 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 No?